Poco è ripreso, Unione Venezia è ancora in possesso di palla con un nuovo lancio in profondità di Cabeccia, la spizzata di testa di Marconi, l'uscita del portiere con il tiro e il gol di D'Apollonia, ha pareggiato l'Unione Venezia, il gol di D'Apollonia, il 41esimo. Vediamo Cabeccia, vediamo cosa riesce a fare, mettono un pallone al mitelare di rigore, vediamo se Principali prova il tiro, Bertolucci, il pallone in mezzo, attenzione, la possibilità, è il gol! Il pareggio! E ancora lui da D'Apollonia! Il pallone sul destro, ancora l'appoggio all'ala per Campania, potrebbe far partire il cross, si accentra sul sinistro, cross basso, pallone intercettato, lo recupera Lauria all'interno dell'area, va fino nel fondo, poi il liscio di Godias, il gol di D'Apollonia! Unione Venezia che pareggia al 29esimo, è stato D'Apollonia a concludere una bella azione di Lauria. Parte Lauria centralmente per Principalli, ecco il cross di Principalli con palla allontanata di testa da Fall e rinviata in rovesciata da Fiore, rimane però al limite dell'area, il tocco di tacco di Godias per D'Apollonia! Gran gol di sinistro di D'Apollonia! Settimo minuto!